Il lucchetto davanti ai cancelli serrati, ormai da due settimane, racconta la fine dei primi 60 anni di vita della scuola media Dante Alighieri di Città di Castello che verrà demolita e ricostruita. L'ultimo giorno di lezione è stato l'8 marzo scorso, quando gli ultimi studenti e insegnanti che ancora frequentavano le aule, insieme al dirigente scolastico Filippo Pettinari e al personale, hanno salutato per sempre banchi e corridoi che hanno accompagnato il percorso di studio di intere generazioni di tifernati. Tutti gli alunni sono stati trasferiti in altri plessi perché entro il 31 marzo è prevista la consegna dei lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile, il più grande cantiere in Umbria nell'ambito dell'edilizia scolastica, nel quale il Comune investirà complessivamente 12 milioni di euro tra finanziamento del PNRR e altri contributi. La nuova Dante Alighieri sarà un complesso scolastico di circa 4.000 metri quadrati che sorgerà nell'attuale sede all'interno del quartiere Latina e ospiterà più di 300 studenti. Progettata nel 1959, la scuola fu ultimata nel 1962 e ampliata ulteriormente nel 1971. In base agli attuali termini per la rendicontazione del PNRR, la costruzione del nuovo complesso si dovrà concludere entro il 2026.